L'appello del direttore del centro di urno Anfas, Filippo Perrini, ha mosso le coscienze. Il direttore aveva chiesto, dopo il furto delle otto biciclette utilizzate in attività di recupero per diversamente abili ai bresciani, di aiutare il centro nell'acquisto di nuove biciclette. All'appello ha risposto non solo l'amministrazione tramite Brescia Mobilità e Bicimia, ma anche generosi cittadini bresciani. Ma sì, è stato così un piccolo grande atto che di risposta a questo appello è fatto da Brescia Mobilità e dal Comune di Brescia e devo dire molto gradito perché è fatto soprattutto dall'istituzione, cioè l'istituzione che di fronte a un piccolo mal tolto, perché comunque di fronte a queste, voglio dire, piccola criminalità, però l'istituzione ha risposto immediatamente. Ringrazio anche i cittadini singoli, una decina, che hanno oltretutto contribuito ad ampliare il parco biciclette dei nostri servizi, sicuramente molto opportuno. Un grazie davvero al Comune di Brescia, a Brescia Mobilità e ai cittadini bresciani. 8 sono le bici che l'amministrazione ha donato al centro e ai ragazzi che così riusciranno a riprendere le loro attività. Altrettante sono le bici donate dai bresciani che anche questa volta hanno risposto positivamente ad una richiesta d'aiuto. Siamo contenti di aver potuto contribuire. Brescia Mobilità e Bicimia è un servizio a servizio dei cittadini e abbiamo voluto tramite anche i nostri fornitori, e ricordo per ringraziare Zecchini di Via Solferino, abbiamo voluto dare un piccolo segno di partecipazione a questa necessità a cui teniamo molto. Le bici portate da Brescia Mobilità sono state consegnate ai ragazzi, le altre saranno utilizzate per un altro gruppo. Era doveroso, uno per un'espressione di gratitudine verso quello che FOBA e PAMFAS fanno da tanto tempo, ogni giorno con professionalità, dedizione, spirito di solidarietà, verso i ragazzi e le famiglie colpite da queste situazioni di difficoltà. È un servizio importante di aiuto all'integrazione e all'autonomia, di supporto anche concreto alle famiglie che hanno questi problemi. E poi una dimostrazione è che vogliamo essere vicini, come già facciamo quotidianamente, a chi subisce i reati, perché non tutti i reati possono essere prevenuti, però è importante, laddove non puoi prevenirli, esercitare una sorta di vicinanza, di risarcimento del danno. E questa è una forma importante per esercire un piccolo danno, autobiciclette non è un grande valore, ma è un grande danno affettivo, un grande danno concreto verso l'attività quotidiana che questi ragazzi fanno per esercitarsi e avviarsi sempre più autonomi. Un plauso anche ai cittadini bresciani che ne hanno trovate altre otto di bici. Sì, dimostrazioni come questa comunità, pur nelle difficoltà, pur nei cambiamenti che sta subendo, è una comunità la nostra, ancora coesa, ancora unita, ancora solidale, ancora attenta a chi ha bisogno, è ancora altruista. Sono valori molto belli, tipici dei bresciani, questi bresciani che appaiono un po' burbari, così da un sguardo approssimativo, ma poi sotto la scorza sono invece un popolo solidale, altruista e che continuano ad esserlo, questo è molto bello.